Il cambio in banchina non ha stancito per il momento gli effetti sperati ed è arrivata una nuova sconfitta per la tonno-callipo Vibo-Valencia che perde 3-0 sul campo di Padova. L'arrivo del nuovo allenatore Daniele Bagnoli, subentrato ad Antonio Valentini, non ha portato bene al sestetto calabrese che solo nel secondo set è riuscito a stare a galla. Padova è uscita decisamente meglio dai blocchi ed ha chiuso il primo parziale senza troppi problemi 25-16. Nel secondo i padroni di casa sono partiti ancora meglio ma questa volta è arrivata la reazione di Vibo. I giallorossi sono riusciti a giocare alla pari fino alla parte finale del parziale finché i Veneti hanno trovato al lungo giusto per chiudere 25-22. Senza storia anche il terzo set è chiuso addirittura 25-15. Vibo resta così al quarto ultimo posto con 19 punti e i prossimi impegni saranno fondamentali in chiave salvezza. Probabilmente i pochi giorni a disposizione del nuovo tecnico non sono stati sufficienti per riuscire a incidere e la strada è ora decisamente in salita se si pensa che il prossimo impegno sarà sul campo di Modena mentre fra 15 giorni si ritornerà al Palavalenzia per una sfida cruciale. Domenica 3 marzo contro Sora infatti ci si potrebbe giocare un'intera stagione.